Ok Jack, sei in onda. 5, 4, 3, 2, 1. Ehi, è lunedì mattina e qui è Jack Lucas. Nel mondo della radio, salve! Jack Lucas era un re. Io neanche lo leggo se non mi fanno un'offerta. Per restare sulla cresta dell'onda, era pronto a fare di tutto. Perdonami! Ma un giorno, superò i limiti. Sembra che sia stata una battuta di Jack Lucas a scatenare la furia assassina di Malick. In fondo io ho tutto, ma è come se non avessi niente. Ehi, che sta succedendo? E quando avevo ormai deciso di arrendersi, incontrò per caso Perry. Fermi! O assaggerete la punta del mio strade! I like New York in June, how about you? Tu lo sai chi sono io? Sei un soprammobile? No! Sono un cavaliere. In missione speciale. In missione? E mi serve aiuto. Ma tu devi essere matto! Sì! E ora Jack si trova a fare una cosa che non ha mai fatto prima. Oh, quanto è dolce! Sono profondamente colpito. Aiutare un altro essere umano. Ho pensato che se potevo metterlo insieme a questa ragazza che lui ama, le cose sarebbero cambiate anche per me. Adagiamoci su questo splendore erboso. Contempla la mia bacchetta magica e libera le sue dorate. Perry, Perry? Perry, Perry? No, solo Perry. Ah, come Mosè. Io dico che sono fatti l'uno per l'altro. Aghiacciante, ma vero? A volte per trovare se stessi, io sono il portiere di Dio. Si trovano cose bellissime nella spazzatura. Si deve rischiare tutto. Bingo! Ho detto che non ci sto. Robin Williams, Jeff Bridges, la leggenda del re pescatore. Io amo quest'uomo! Non abbracciarmi mai più in pubblico, capito?